E' stata provvidenziale la tempestività di intervento del 118 triestino, dell'equip del Burlo e dell'ospedale di Cattinara per salvare la vita a una mamma partoriente entrata in coma. Ieri il 118 di Trieste è intervenuto a casa di una 37enne all'ottavo mese di gravidanza per uno stato di coma improvviso. Gli operatori, vista la gravità della situazione, l'hanno stabilizzata, intubata e hanno immediatamente attivato tramite la sala operativa regionale emergenza sanitaria l'equip ostetrico-ginecologico del Burlo Garofolo. Grazie al coordinamento tra Sores e le tre equip del 118, del Burlo Garofolo e dell'ospedale di Cattinara, la paziente è stata immediatamente trasportata in condizioni stabili all'ospedale triestino, dove dopo le prime indagini è stata sottoposta a un intervento di cesareo urgente. Massima cura è stata garantita sia al nascituro che alla partoriente. E' nato un maschio in buone condizioni di salute, che è stato subito trasportato con termoculla al Burlo Garofolo. La mamma è stata in seguito sottoposta a un intervento neurochirurgico ed è attualmente in prognosi riservata in rianimazione. Come già detto, questo tragico evento ha messo in luce un aspetto prioritario, ovvero la tempistività di intervento, nonché la preparazione del personale chiamato in causa.